Acquista, ritira, indossa e scatta. Nessuno, ma davvero nessuno, avrebbe potuto immaginare che tipo di ricadute avrebbe avuto la pandemia sulla nostra vita. Non c'è un solo aspetto che non sia stato toccato, cancellato o modificato dalle misure antivirus, e tra quelli ludici non fa eccezione la tradizionale corsa in rosa della Lilta, Morbegno, del 25 aprile. Quest'anno sarebbe stata l'edizione del decimo anno e, proprio per non lasciare passare sotto silenzio l'anniversario, il gruppo storico della Lilta ha deciso di festeggiarlo in un modo comunque significativo, invitando ogni donna a fare la propria Lilta Running, perché la corsa contro il cancro è tutti i giorni. Come? Indossando la maglietta Lilta Running Special Edition per correre, camminare, pedalare in bicicletta o comunque fare movimento sano all'aria aperta. In questo modo si contribuirà, seppur distanziate, a farsi ambasciatrici del messaggio più importante di tutti, prevenire e vivere. Un messaggio che è stato passato e veicolato da madre in figlia, da nonna a nipote, grazie veramente alla grandissima partecipazione di queste nove edizioni, che hanno permesso anche di raccogliere tantissimi fondi che la Lilta di Sondrio ha utilizzato per acquistare macchinari per la prevenzione, ma la Lilta Running, nonostante il Covid, non si ferma. Noi donne dobbiamo essere tutte unite, tutte vicine e fare la nostra Lilta Running quando vogliamo, dove vogliamo, sui sentieri o nelle strade della nostra bellissima Valtellina, stringendoci virtualmente la mano e dimostrando ancora una volta in più tutta la nostra vicinanza, la nostra forza e la nostra determinazione. E per ricordarci questo evento, questa decima memorabile edizione, sono in vendita le magliette Special Edition, che hanno una grafica eccezionale e che potete acquistare presso la sede della Lilta, oppure tramite i canali social Facebook o il sito internet della Lilta di Sondrio, oppure con il passaparola delle organizzatrici, le magnifiche donne in rosa della Lilta Running. Un invito a fare la propria Lilta Running arriva anche da una super campionessa, Alice Gaggi, che della Corsa in Rosa è convinta madrina. Vi invito comunque a sostenere i progetti della Lilta, acquistando la maglietta che sarebbe dovuta essere della gara e vi invito comunque a fare sport, a tenervi in forma, seppur a livello individuale, sperando di poterci riunire presto tutti insieme.